Giulia Bofferti, ma tutto va? Perfetto. Face il benvenuto oggi a tutti quelli che sono venuti a Cittadella per commemorare Andrea Soffo in occasione dell'inversario della sua morte. Questo è un giorno particolare perché è il giorno della ripresa. L'anno scorso non c'è stata la commemorazione a causa del Covid, quest'anno, seppur con cautela, riusciamo a organizzare questa commemorazione. È un momento molto importante sia per gli Schutze, che sono raccorsi numerosi, sia per i Mantovali, perché ricordare questo eroe vuol dire ricordare la nostra storia, ma anche aprire una finestra verso l'Europa. Questa piazza è una piazza che è dotata anche di un infopoint turistico, oltre che del nostro piccolo museo, e di conseguenza è pronta ad accogliere i visitatori per la prossima stagione. Grazie e buona partecipazione.